Tiratore da 43% con i piedi dietro l'arco in stagione, qui aiuta anche in difesa, perfeziona il recupero alla Quintana, c'è Lombardi per l'Aliup, in chioda a due mani, il vantaggio angelico e adesso tutti in piedi al cuore. Qui andiamo a rivedere l'Aliup sull'asse, la Quintana Lombardi, ti ricordo oggi compie 22 anni, però mi sembra che Regalo lo stia facendo più che altro ai tifosi.